Non bisogna né dire perché non è vero che Napoli è l'inferno, né dire che le cose vanno bene perché così si finisce con il sottovalutare e non affrontare con il dovuto rigore una situazione che resta delicata anche per quanto riguarda la criminalità minorile. Il procuratore generale di Napoli Luigi Riello ha introdotto così i lavori del secondo rapporto criminalità e sicurezza a Napoli, la ricerca di Giacomo Di Gennaro e Riccardo Maranello, finanziata dall'Istituto di Studi Politici San Pio V. Il primato negativo assoluto sugli omicidi, infatti nel 2016, va alla provincia di Rovigo, seguita da Foggia, Napoli, Nuoro, Vibo, Valencia e Trapani. Non ci devono essere scuole di pensiero, chi vuole la fermezza e chi vuole l'indulgenza e l'andare alla radice delle cause, ci vogliono tutte e due le cose, ci vuole un intelligente risalire alle cause della devianza e della criminalità, ma ci vogliono anche risposte chiare, risposte ferme, perché io uso dire che la gente è stanca di chiedere che ora è e di sentirsi rispondere come è fatto un orologio. Nel rapporto diviso in tre sezioni c'è il tema della formazione di aggregazioni violente e giovanili, la ferocia declan camorristici e l'adeguatezza delle politiche di deterrenza, nonché l'analisi del fenomeno dell'usura alla luce di una riflessione civilistica, penalistica e vittimologica. Il professore Giacomo Di Gennaro Si evince che c'è una narrazione su questa città, una narrazione negativa, che molto spesso non corrisponde alla realtà, questa è la prima cosa. Questo dipende ovviamente dal fatto che ci sono degli eventi di cronaca su cui si focalizza l'attenzione dei media e che però oggettivamente generano nell'opinione pubblica un'idea che in questo contesto ci sia un tasso di criminalità molto alto, una criminalità che non si controlla e invece non è così.